La formazione dei giovani studenti del Sud nelle università sia del Sud che di tutta Italia per poi dare un contributo all'economia di questo Paese? Non vorrei anche perché io sono del Sud, non posso dire che sono i migliori, però sono bravi, i ragazzi del Sud sono davvero molto intellettualmente preparati, dotati, hanno delle capacità e soprattutto desiderano davvero inserirsi nel mondo romano, certamente l'essere fuorisede dà delle sollecitazioni maggiori rispetto agli altri studetti e tutto questo però deve essere valorizzato, bisogna fare di più, è necessario che le università siano più vicini, non soltanto nel percorso formativo, ma soprattutto nell'aiutare i giovani a un loro inserimento nelle proprie terre di origine. Penso che anche la Chiesa dovrebbe fare molto di più, ci sono tanti giovani che provengono da gruppi giovanili, delle parrocchie, dei movimenti ecclesiali e molto importante è maturare questa consapevolezza che investire sulla formazione dei giovani per lo sviluppo del territorio oggi la presenca è una delle vie migliori e quelle più efficaci per ricreare un tessuto nuovo, soprattutto nel settore produttivo e nel settore dell'elaborazione di una nuova cultura per lo sviluppo del paese.